Negli scorsi giorni è stato pubblicato il nuovo report dell'osservatorio 5G europeo uno studio che mostra lo stato di avanzamento delle reti 5G in Europa e nei singoli stati quindi anche in Italia andando anche a fare un confronto con quello che è l'avanzamento delle reti di nuova generazione anche al di fuori del continente europeo quindi considerando per esempio la Cina, gli Stati Uniti e il Giappone Nel corso di questo video andremo quindi a fare un bilancio e commentare insieme i dati più importanti relativi da prima all'Unione Europea ma anche e soprattutto riguardanti il nostro paese visto che ci sono dei dati particolarmente interessanti che ci rappresentano una situazione un po' diversa rispetto a quella che avevamo commentato nei mesi scorsi ma come detto iniziamo parlando di Europa e in particolare del tasso di copertura delle reti 5G sul territorio europeo che hanno raggiunto una percentuale decisamente buona pari all'89% ossia l'89% della popolazione europea è coperta da rete 5G con una crescita dell'8% rispetto al report dello scorso anno con l'Italia che si trova al sesto posto nella classifica europea con il 99,7% di popolazione raggiunta da connettività 5G e che poi andremo ad approfondire successivamente un tasso di copertura quello dell'89% a livello europeo che viene raggiunto grazie all'installazione di circa 450.000 BTS quindi antenne 5G con una crescita di circa 140.000 nuove BTS nell'ultimo anno un numero di antenne 5G installate sul territorio europeo anche in questo caso non indifferente visto che se paragoniamo il continente europeo con la Cina, il Giappone, gli Stati Uniti e la Sud Corea risultiamo essere di fatto dietro esclusivamente all'irraggiungibile Cina che invece ha già installato 3.5 milioni di antenne 5G ma a parte il numero assoluto è chiaramente più interessante andare a reazionare questo dato al numero di abitanti di ciascun continente o stato andando quindi a determinare il numero di antenne 5G medio ogni 100.000 abitanti e anche in questo caso il risultato non è poi così male per l'Europa visto che in media 100.000 abitanti europei sono serviti da 103 antenne 5G un numero che risulta essere per esempio il doppio rispetto a quello dei cittadini americani abbastanza in linea con quelli giapponesi e assolutamente imparagonabile con la Cina che riesce di fatto a garantire il doppio delle BTS ogni 100.000 abitanti ma soprattutto con la Sud Corea che considerando la popolazione ha di fatto quasi 600 BTS ogni 100.000 abitanti andando ora a commentare un po' più nel dettaglio i dati che riguardano il nostro paese quindi l'Italia ecco che in questo caso il numero di BTS 5G quindi di antenne 5G installate sul nostro territorio è pari a 64.000 unità contro le 54.000 del report precedente quindi abbiamo avuto un incremento di nuove 10.000 antenne 5G installate che ci permettono in termini assoluti di essere al secondo posto a livello europeo dietro solo alla Germania che invece ne installate quasi 100.000 in particolare 97.000 antenne 5G ma poi anche in questo caso è interessante relazionare questi numeri al numero della popolazione di ciascuno stato e quindi ecco che l'Italia si allinea poi di fatto alle medie europee con 108 BTS 5G ogni 100.000 abitanti contro le 103 di media a livello europeo mentre facendo questo calcolo spiccano paesi come Irlanda e Finlandia che addirittura hanno un numero di antenne 5G ogni 100.000 abitanti superiore a quello della Cina tuttavia però finora abbiamo parlato di 5G in generale considerando esclusivamente il numero di antenne 5G installate sul territorio ma poi è bene declinare il 5G in base alle frequenze utilizzate per trasmettere il segnale infatti ricorderete che il 5G presenta di fatto tre bande di frequenza di riferimento le frequenze basse a 700 MHz le frequenze medie tra i 3.4 e i 3.8 GHz e le frequenze alte a 26 GHz oltre che una tecnologia denominata 5G Dynamic Spectrum Sharing che di fatto consiste nella condivisione delle frequenze 4G tra il 4G e il 5G delle diverse reincarnazioni del 5G che comportano anche prestazioni ben diverse perché se con il 5G a frequenze basse quindi 700 MHz e anche con il 5G Dynamic Spectrum Sharing le prestazioni che possiamo aspettarci sono abbastanza in linea con quelle di una rete 4G con le frequenze medie le velocità possono essere maggiori arrivando anche ai fatidici gigabit per secondo su rete cellulare e quindi è proprio importante andare a capire quante di queste BTS sono effettivamente implementate e utilizzano queste frequenze medie che risultano essere di fatto le più importanti e le principali per sperimentare i veri benefici del 5G e quindi da questo punto di vista come siamo messi? Beh, un po' meno bene di quanto abbiamo visto finora infatti a livello europeo la copertura con reti 5G a frequenze medie quindi a 3.4 e 3.8 GHz è pari al 51% contro i 41% dello scorso report quindi abbiamo sfondato la barriera del 50% quindi di fatto un europeo su due coperto da reti 5G a frequenze medie ma questo risulta comunque essere un dato che ridimensiona un po' quel tasso di copertura delle reti 5G dell'89% che abbiamo visto in precedenza c'è da dire però ed è qui la sorpresa di questo video e del report di quest'anno che questa tendenza non riguarda il nostro paese infatti se andiamo a vedere la percentuale di copertura in termini di popolazione del nostro paese con frequenze medie ecco che questa risulta essere la seconda a livello europeo con più dell'80% di copertura della popolazione con 5G a frequenze medie un risultato che non sorprende se andiamo a vedere com'è la distribuzione delle 64.000 antenne 5G installate sul territorio rispetto alle frequenze e tecnologie utilizzate infatti se lo scorso anno il 55% delle antenne 5G installate sul nostro territorio utilizzavano tecnologia 5G Dynamic Spectrum Sharing quindi le frequenze condivise tra 4G e 5G e solo il 29% di queste era dedicata alle frequenze 3.4 e 3.5 GHz ecco che ora la situazione risulta essere assolutamente più omogenea e comincia a delinearsi quello scenario in cui un po' tutte le frequenze utilizzabili con il 5G iniziano a fare la propria parte infatti come vedete abbiamo di fatto una distribuzione di antenne 5G quasi paritetica tra le varie tecnologie e frequenze con però la fetta più grande del 37% che ora riguarda proprio le frequenze media 3.4 e 3.8 GHz contro il 34% delle antenne 5G in tecnologia Dynamic Spectrum Sharing e vi ricordo che lo scorso anno erano il 55% oltre che quel 29% di frequenze basse a 700 MHz che anch'esso è risultato essere in forte crescita visto che nello scorso report era pari solo al 16% dei dati che quindi ci suggeriscono come probabilmente la fase di implementazione e di utilizzo del 5G Dynamic Spectrum Sharing sia essenzialmente arrivata a regime e a compimento e che invece nell'ultimo anno gli operatori si siano concentrati sull'implementazione di reti 5G con frequenze dedicate sia a frequenze medie ma anche a frequenze basse e la dimostrazione di questo è data da Wind3 che nelle prime fasi di lancio del 5G era stato un po' il portabandiera del 5G Dynamic Spectrum Sharing oggi è in grado di garantire una copertura del 74% della popolazione con frequenze medie e tra l'altro è interessante notare come in termini assoluti di antenne 5G a frequenze medie risultiamo essere i primi a livello europeo con le nostre circa 23.000 antenne 5G a frequenze medie anche se poi ovviamente mediando per il numero di abitanti e considerando il numero di antenne 5G a frequenze medie ogni 100.000 abitanti ci vogliamo al settimo posto e risultiamo essere di fatto poco sopra la media europea con 39 Bts a frequenze medie ogni 100.000 abitanti rispetto alle 31 a livello europeo sì ok ma abbiamo parlato di frequenze di riferimento del 5G ma mi sembra che all'appello ne manchi una perché abbiamo parlato di 5G di dynamic spectrum sharing di frequenze basse e frequenze medie e le frequenze alte? ossia le onde millimetriche? beh da questo punto di vista nessuna novità né in Italia né in Europa nel senso che al momento queste frequenze non vengono utilizzate per le reti mobili 5G e quindi non ci resta che attendere ancora una volta di capire se gli operatori europei saranno effettivamente interessati ad utilizzare in futuro questo tipo di frequenze che ricordiamo sono in grado di garantire una capacità di copertura molto ridotta ma con capacità trasmissive quindi velocità di trasmissione davvero molto elevate e infine c'è un'altra tecnologia che manca un po' all'appello ossia il 5G stand alone perché finora tutto ciò di cui abbiamo discusso riguardava il cosiddetto 5G non stand alone quindi quella versione di 5G che si appoggia ancora sulla rete core 4G mentre invece sappiamo tutti come la soluzione target del 5G sia proprio il 5G stand alone dove anche la rete core è 5G e quindi tutto il percorso della rete è totalmente 5G e da questo punto di vista purtroppo non arrivano grandi notizie infatti sul report viene candidamente ammesso come non ci siano informazioni sufficienti per fornire un'analisi dettagliata dello stato di avanzamento delle rete 5G stand alone citando esclusivamente alcune implementazioni spot come per esempio una rete 5G in Portogallo alla fine del 2023 e una in Irlanda all'inizio del 2024 ma ad ogni modo l'impressione che l'implementazione di queste reti a livello europeo e anche a livello locale, italiano visto che non abbiamo avuto nessun tipo di annuncio sia ancora un po' in alto mare ma chiaramente la speranza è che gli operatori stiano sotto traccia lavorando a questo tipo di reti e che ci possano sorprendere nel corso o di questa seconda metà dell'anno o più presumibilmente nel corso del prossimo anno del 2025 con qualche annuncio a riguardo questo quindi tutto quello che c'era da sapere a riguardo dello stato di avanzamento delle reti 5G sul territorio europeo negli altri continenti extraeuropei e anche e soprattutto nel nostro paese che come abbiamo visto sembra aver dato un po' un cambio di marcia al 5G seppur ancora non stand alone andando a puntare molto sulle frequenze pioniere e fondamentali per lo sviluppo e l'esperienza più autentica del 5G ossia le frequenze medie e quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete effettivamente percepito questo incremento di BTS 5G a frequenze medie con magari un upgrade di velocità che nei primi mesi o nei primi anni del 5G non avevate sperimentato